Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio, perlomeno per quanto mi riguarda. L'analisi di questa partita, l'analisi di Inter-Juve, non sarà, non vertirà, non sarà concentrata sul fallo di mano, sul possibile fallo di mano, sul gol da annullare della Juventus per fallo di mano di Rabiot. No, perché al netto di quel fallo di mano, ipotetico fallo di mano, c'è, non c'è, Inzaghi si lamenta, magari giustamente, io mi concentro su l'ennesima partita imbarazzante della squadra. L'ennesima, l'ennesima partita imbarazzante. Mi concentro su 97 minuti di nulla, 97 minuti di nulla. 97 minuti in cui tu hai fatto un tiro in porta, una bella azione, purtroppo centrale, dove Cesi alla fine non ha dovuto nemmeno fare una parata perché la palla gli ha sbattuto contro. E tu in 97 minuti hai concesso un tiro in porta alla Juve, dove al netto del possibile fallo, Kostic prende la palla, la stoppa dentro l'area di rigore, non al centrocampo, dentro l'area di rigore. Stoppa la palla, la mette giù, guarda, mira l'angolo, calcia indisturbato col suo piede forte, col sinistro, senza che nessuno dei nostri difensori abbia la decenza di provare a fare qualcosa, di andare a chiudergli lo specchio di tiro. nessuno, nessuno. Questo è lo specchio di questa partita, una partita che molto probabilmente era da 0 a 0, probabilmente era da 0 a 0, che viene, diciamo così, risolta per una disattenzione. al netto del fatto che poi l'azione doveva essere fermata. Perché quello calcia da solo verso la porta? Perché non c'è nessuno che gli va a chiudere lo specchio? Perché non c'è nessuno che lo marca? Perché noi non siamo più capaci di calciare verso la porta in maniera pericolosa? Perché noi 97 minuti non siamo più capaci di creare azioni? se ogni tanto c'è la Noglu non prende lui la briga di tirare da fuori, fare qualche azione un po' personale, nessuno di noi e nessuno dei nostri è capace di creare azioni pericolose e pulite? Come mai? Questo è un live motive che ci portiamo avanti all'inizio del campionato. tolta qualche partita dove abbiamo avuto sprazzi di squadra, sprazzi di Inter, la maggior parte delle volte l'emmotive è questo. Una squadra incapace di mettere lì, perché non prendiamoci in giro, la Juventus è venuta qua per non perdere, vedendo la formazione che ha messo, vedendo i giocatori che ha messo in campo e vedendo l'atteggiamento che ha avuto, ovvero quello di mettersi tutti dietro e sperare nell'episodio, che puntualmente è avvenuto soprattutto per colpa nostra, perché anche lì ennesima disattenzione difensiva. Ma non è che dici questo prende la palla da 20 metri, scalcia, la mette all'incrocio dei pali e dici bravo, no, no, ennesima disattenzione difensiva. Quindi, per quello dicevo, non prendiamo il pallo di Rabiot, il pallo di mano di Rabiot, che molto brevemente c'era, come alibi, perché io mi sarei incazzato a bestia, no, in una situazione del genere, come è capitato gli altri anni, se almeno tu, in 97 minuti, avessi creato azioni pericolose, vere, pali, traverse, scesni che fa miracoli. Noi non abbiamo creato nulla di tutto ciò, quindi anche se tu ti lamenti del possibile fallo di mano di Rabiot, va bene, tu cos'hai da mettere sul piatto di Rabiot? Tu cosa hai fatto per vincere questa partita? Niente! Perché 70% di possesso palla, senza mai tirare in porta, è come se tu dai la palla a Onana e lui la tiene ai piedi nella sua area di rigore. Questi sono, questo siamo oggi, il nulla cosmico. Questa è l'ennesima partita imbarazzante di questa squadra, l'ennesima. 9 sconfitte in un campionato normale, se questo fosse un campionato normale, noi non saremmo terzi in classifica, non saremmo ancora lì in zona Champions, saremmo tani, noni, decimi, con 9 sconfitte. Qual è il vantaggio? Qual è la fortuna, chiamiamola, in questo momento di questa squadra? è che le squadre che si stanno lottando la Champions, dalla Lazio in giù, Napoli ormai è andato, fanno più o meno le nostre stesse partite. Chi più, chi meno. Noi abbiamo 9 sconfitte, il Milan ne ha 7, la Roma ne ha 8. Quindi siamo lì. È quella la nostra fortuna. Quello che secondo me i giocatori vedono e gli dicono, vabbè, nonostante facciamo cagare, siamo ancora lì, adesso questa sosta ci può aiutare, ci può aiutare, perché poi torniamo e abbiamo 3-4 partite che sono totalmente alla nostra portata, totalmente. E se tu non fai bottino pieno o quasi bottino pieno in queste 3-4 partite che tu hai dopo l'arriento della sosta, ve lo dico adesso ragazzi, segnatevelo. Noi non andiamo in Champions League. Partendo dal più sposto che l'Inter la Champions non la vince, quindi toglietevi i voli pindarici, è vero, abbiamo avuto, come ho detto, abbiamo avuto un sorteggio favorevole, siamo dal lato del tabellone giusto, ma l'Inter comunque la Champions non la vince. Togliamoci questa idea, anzi, toglietevi, perché io non ce l'ho, toglietevi questa idea dalla testa. Che andare avanti nelle fasi eliminatorie non ti dà la certezza di andare in Champions League l'anno prossimo, non c'è nessuna regola che se arrivi in semifinale tu l'anno prossimo vai in Champions League. Tu hai solo due modi per giocare la Champions League, qualificarti nel tuo campionato e vincere la Coppa. E ad oggi, e ad oggi, sono difficili entrambe per l'Inter. Soltanto perché, ripeto, soltanto perché le altre competitor, dalla Lazio in giù, fino alla Roma, all'Atalanta, stanno facendo tutte un campionato imbarazzante, simile al nostro. Ma io non guardo quello, io non guardo, io lo guardo noi. Io avrei voluto, come ho detto nel video del sorteggio, avrei voluto avere un cuscinetto di punti che mi mettesse a riparo da situazioni del genere e che mi desse la possibilità, lì sì, di concentrarmi per la Champions League. A me quello che mi manda fuori di testa, sapete qual è, è che questa è una squadra che due anni fa ha vinto un campionato, dominando. L'anno scorso si è giocato il campionato fino all'ultima giornata, ha vinto due trofei, ne ha vinto un altro quest'anno. Ma questa è una squadra che ad oggi non si merita di andare in Champions League tra le prime quattro. Non se lo merita. Come ho detto prima, in un campionato normale saremmo tavoli. Quindi io non mi capacito di come una squadra che l'anno scorso è praticamente la stessa, è praticamente la stessa, quest'anno sia a 23 punti, 22 punti dal Napoli e sia ancora in lotta per la Champions League, non avendo Tavio Ghezzi già chiuso il discorso con un buon vantaggio. Poi dice, vabbè, sei ancora lì, hai la semifinale di Coppitala con la Juventus, hai il quarto di finale con il Benfica. Dice, perché ti lamenti? Mi lamento perché questa è una squadra che ad oggi, secondo me, non ha futuro. Non ha futuro se non scendono in campo come cazzo si deve. Se non mettono cattiveria, se non mettono rabbia quando vanno in campo. Perché oggi questa è una partita che tu avresti potuto vincere facile se fosse stata l'Inter dell'anno scorso. Avresti potuto vincere facile. Non parlo nemmeno dell'Inter che ha vinto il campionato. Dico, l'Inter dell'anno scorso, questa partita qua, con l'atteggiamento, la cattiveria, la capacità di andare ad aggredire, di tenerli l'avversario, l'Inter dell'anno scorso, con questa Juve imbarazzante, con questa Juve veramente di basso livello, avrebbe vinto facile. Invece noi siamo capaci di perdere contro questa Juve. Siamo capaci di perdere contro una squadra che è venuta qua a fare le barricate. Questo siamo. Ed è ancora più grave. Ed è ancora più grave. Essere in queste condizioni perché ci siamo messi da soli. Essere in queste condizioni perché? Per colpa nostra. Non perché gli altri sono più forti. Tolto il Napoli, ripeto, che sta facendo un campionato a parte. Che tra tutto sei anche riuscito a batterlo. Quindi vuol dire che quando tu è in scendio in campo e sei concentrato, come dico sempre, sai dove cazzo ti trovi? Se è difficile da battere, siamo difficili da battere come squadra. Peccato che evidentemente questa è una squadra che ha dato questo campionato già per perso. Evidentemente per molti questo campionato è già andato. E vedendo la pochezza tecnica anche delle squadre che tu hai intorno, che hai in lotta per la Champions, si crede che basta fare due o tre vittorie e sei a posto. Non è così, signori. Non è così. Non è così. Comunque, adesso c'è questa sosta. Può essere che dal punto di vista mentale ci faccia bene. Dovremmo recuperare tutti i vari infortunati, perché poi, come ho detto, rientriamo e abbiamo un filotto di partiti in campionato totalmente alla nostra portata e poi abbiamo le due semifinali con la Juve andate al ritorno e le due partite con il Benfica. Quindi praticamente la nostra stagione ad aprile si definisce. Capiremo quest'anno di che morte dovremo morire. Io vi saluto, vi ringrazio ancora tutti quelli che si sono iscritti al canale, vi ringrazio ancora tutti quelli che mettono like, commentano, insomma, vi ringrazio. E niente, noi ci rivederemo in questi giorni, adesso c'è questa settimana, queste due settimane di stop e vedremo se succederà qualcosa, se ci sarà qualcosa di cui parlare, altrimenti ci rivedremo alla ripresa del campionato. Io per il momento vi saluto, ma prima di farlo, forza, forza, forza Inter.